Eccoci in viaggio per la Garfagnana, c'è anche Adamo Bernardi che è alla guida, altrimenti io non potrei mettermi a fare i video e darvi fastidio ovviamente, mi sono caduti anche gli occhiali, mi servono anche quelli. Allora, campagna elettorale a Pietrasanta sta andando bene, stamani mattina abbiamo fatto un incontro lì nel bar in via Santini con Alberto Giovannetti, sta andando in tutte le realtà, in tutte le frazioni, parla con le persone, sono molto contento, devo dire che adesso sta a voi, voi dovete avere chiaro un obiettivo, cosa volete? Volete tornare al passato e quindi tornare ad avere un'amministrazione di sinistra che non fa i vostri interessi o volete continuare sulla scia che abbiamo impostato noi come amministrazione? Dovete deciderlo, dovete solo deciderlo, quindi se volete tornare al passato con l'impennata delle tasse, un territorio disastrato, dovete scegliere la sinistra, o i 5 Stelle, che più o meno siamo lì, oppure dovete votare Alberto Giovannetti, che mi pare una continuità chiara e precisa. Noi abbiamo nel vostro e nel nostro interesse l'obiettivo di vincere le elezioni al primo turno ed è un risultato fattibile, è un risultato al quale si può arrivare senza grossi problemi, ma nell'ipotesi in cui dovessimo andare al ballottaggio sia chiaro, almeno per quanto mi riguarda, nessun accordo con nessuno e non sono come altri che dicono di non fare accordi e poi alla fine si trovano insieme al governo, no, nessun accordo con nessuno. Quindi chi va in giro a dire poi tanto al ballottaggio andremo insieme con Alberto Giovannetti? Per quanto mi riguarda, ed è una mia opinione, ma credo che ancora qualcosa possa valere, mai nessun accordo. Quindi non sprecate il vostro voto, non sprecate voti su liste che purtroppo prenderanno neanche i voti sufficienti per essere rappresentati in Consiglio Comunale e votate subito Alberto Giovannetti. In questo modo vinceremo le elezioni al primo turno il 10 giugno e l'11 mattina con Alberto Giovannetti torneremo a governare a Pietrasanta nella scia che abbiamo lasciato come amministrazione di centrodestra, proseguiremo nei programmi, nello sviluppo, nell'abbassamento delle tasse e nella sicurezza. E per quanto mi riguarda, impegno a Pietrasanta con un impegno romano per portare risorse e sviluppo. Ciao, vi sauto anche Adamo. Adamo, fai ciao? Ciao ragazzi!